Ciao, e bentornati su Misteri Ricappe Dita. Oggi andrò a spiegare una serie televisiva fantascientifica drammatica australiana intitolata The Unlisted. Attenzione spoiler! Buona visione! Nella scena iniziale, un gruppo di studenti delle scuole medie sta correndo in un vicolo vuoto. Due adulti li seguono da vicino, ma li perdono lungo un binario della metropolitana. I bambini si nascondono dietro un muro, soli e spaventati. Da qualche parte in Australia, vive una famiglia di sei persone, la famiglia Sharma. I gemelli Sharma, Drew e Cal sono identici, ma hanno personalità completamente diverse. Di solito vengono distinti come il fratello che porta gli occhiali e quello che non li porta. Una mattina, il fratello maggiore Drew sogna qualcuno che gli trapana i denti, e si sveglia spaventato. Il suo gemello ride, prendendo in giro l'irragionevole paura di Drew per i dentisti. La famiglia è impegnata a prepararsi per la celebrazione del Diwali. La loro nonna gli prepara la colazione, prima di assegnare i loro compiti individuali da svolgere entro la fine della giornata. Di recente, Drew è entrato nel database della sua scuola per vedere in anticipo i risultati dei suoi test. Questo lo ha coinvolto in un sacco di guai, e i suoi genitori gli hanno finalmente permesso di usare il suo computer dopo una settimana di restrizioni. Cal sbuffa, sapendo che Drew ha usato il suo telefono come al solito nell'ultima settimana. Nella scena seguente vanno a scuola, e incontrano un'amica comune di nome Chloe. Mentre parlano, viene chiamata tutta la loro classe per una visita odontoiatrica obbligatoria, assegnata dal programma Global Child Initiative. Un compagno di classe di nome Tim scappa, sostenendo che i suoi genitori non approvano il controllo. Drew, che teme l'idea delle visite dentistiche, chiede a Cal di prendere il suo posto. Cal indossa gli occhiali di Drew, e va dentro una seconda volta. I medici non sospettano di lui, ed eseguono la stessa procedura su di lui due volte. In classe, il loro insegnante, Mr. Park, li sorprende con un test imposto dal programma Global Child Initiative. Una rappresentante del suddetto programma, la signorina Biggs, arriva in classe come supervisore. Dopo pochi minuti dall'inizio del test, gli studenti si bloccano all'improvviso. Drew è l'unico normale della classe, ed è confuso a morte. La signorina Biggs, tuttavia, sembra sapere cosa sta succedendo. Raccoglie il rapporto sulle condizioni dei ragazzi, e non si accorge che Drew si sta ancora muovendo. Alcuni secondi dopo, tornano alla normalità, e continuano il test come se nulla fosse. Dopo la lezione, Drew prova a chiedere a Cal perché si è congelato, ma Cal non sa di cosa sta parlando. Questo è seguito da una serie di strani incidenti, come Cal che pedala molto velocemente senza rendersene conto, e lui che rompe un barattolo di burro d'arachidi a mani nude. Drew prova ripetutamente a dirgli che qualcosa non va, ma Cal pensa che sia troppo drammatico. Più tardi, i fratelli sono fuori da un negozio, quando Tim corre da loro. È lo stesso ragazzo che quel giorno ha rifiutato il controllo dentale. Dice loro di non fidarsi di nessuno e di stare attenti, prima di scappare. I gemelli notano un furgone nero che segue Tim, e decidono di inseguirli entrambi. Tuttavia, non riescono a tenere il passo con l'auto, e alla fine li perdono. La sera c'è la celebrazione per il duali, ma i ragazzi sono troppo occupati per godersi il festival. Chiamano i genitori di Tim, che sono altrettanto preoccupati. Improvvisamente, un gruppo di uomini rapisce la coppia prima di terminare la chiamata. I fratelli pensano di chiamare la polizia, ma ricordano che Tim ha chiesto loro di non fidarsi di nessuno. Inoltre, non vogliono dirlo ai loro genitori, perché ciò li metterebbe a rischio di essere rapiti. Vediamo poi gli studenti che abbiamo visto nella scena iniziale. Stanno anche loro scappando dagli agenti del programma. Gli agenti controllano quindi i filmati delle telecamere a circuito chiuso dell'intera città per cercare i ragazzi. Il giorno dopo, a scuola, la classe dei gemelli è costretta a fare un test fisico. In esso, gli studenti mostrano eccezionali capacità atletiche, che sono troppo avanzate per la loro età, fatta eccezione per Drew, che fatica a stare al passo con i suoi compagni di classe. La signorina Biggs se ne accorge, e lo chiama in infermeria per un esame. Drew cambia immediatamente posto con Carl, e lo fa andare con l'insegnante. La signorina Biggs dà un'occhiata alle sue gengive con la scusa di controllargli la gola. Carl si rende conto che durante il controllo dentale gli devono aver impiantato una specie di dispositivo che fa sì che lui e gli altri si comportino in modo strano. Tuttavia, siccome Drew ha saltato il test, lui è rimasto normale. I fratelli usano segretamente il computer del loro insegnante, e trovano un database pieno di registri degli studenti. Contiene tutto sui ragazzi, inclusa la posizione di dove abitano. Dal momento che cala due impianti su entrambi i lati della mascella, le informazioni su di lui raccolte dall'impianto sono anche usate come quelle di Drew. Nel frattempo, Tim viene etichettato come non in elenco, perché non ha mai affrontato l'operazione. Da qualche altra parte, l'altro gruppo in fuga dall'organizzazione trova un walkie-talkie funzionante nel cestino dei rifiuti. Dal momento che non possono comunicare tramite i loro telefoni, decidono di utilizzare il dispositivo. A casa, anche i fratelli si procurano dei radiotelefoni per comunicare. Ricercano il Global Child Initiative, e scoprono un'organizzazione denominata Infinity Group alla base dell'idea. Per controllare la portata del telefono, calesce e vede un veicolo davanti alla casa di Tim. I agenti lo vedono, e lo inseguono lungo la strada, ma Cal riesce a scappare. Mentre lui e Drew parlano al telefono, trovano la frequenza dell'altro gruppo e ascoltano la loro voce. Cercano di comunicare con loro, e di guadagnare la loro fiducia dicendo loro cosa sanno del programma. Il leader dell'altro gruppo, Rose, li chiede di incontrarsi il giorno dopo su una collina. Rose e il suo gruppo rubano i cestini del pranzo alle persone al parco. Sanno che non possono andare avanti a lungo in tali condizioni, e sono disperati per aiuto esterno. Al contrario, i ragazzi Sharma vengono nutriti in abbondanza dalla nonna. A scuola, giocano a cabaddi, ma sono inseriti in due squadre diverse. Grazie alla ritrovata forza di Cal, lui lotta facilmente con l'altra squadra, ma questo rende anche gli agenti sospettosi di lui. Drew gli chiede di perdere il round successivo, in modo da non essere scoperti. Cal fa con riluttanza come detto, ma è arrabbiato per aver perso. Una lecchina di un insegnante di nome Regallo registra mentre prende a calci un bidone, facendolo volare a pochi metri di distanza, e decide di mostrarlo alla signorina Biggs più tardi. Dopo la scuola, i fratelli corrompono la loro sorella maggiore per coprirli, mentre escono per incontrare Rose e le sue amiche. Quando finalmente raggiungono la posizione, non trovano nessuno in giro. All'improvviso, qualcuno gli mette delle borse in testa nel tentativo di rapirli. Tuttavia, contro la forza di Cal, si dimostrano deboli. Si scopre che non sono gli agenti, ma Rose e i suoi amici. Volevano rapire i ragazzi per assicurarsi che non fossero con il gruppo rivale. Durante la lotta, l'amico di Rose, Jacob, si fa male. Lui e Cal rimangono al parco per assicurarsi che l'altro gruppo non stia bluffando, mentre gli altri vanno al nascondiglio, dove Drew dice loro tutto. Il gruppo rivela che anche loro non hanno ottenuto gli impianti dentali a causa di alcuni disturbi, ed è per questo che non sono in elenco e sono nella lista dei ricercati dagli agenti. Non sanno quale sia esattamente il motivo del programma, ma sono sicuri che alcune persone potenti stiano cercando di controllare i giovani. Drew racconta loro di Tim e dei suoi genitori che sono stati rapiti, il che fa sentire solo peggio il gruppo. Drew percepisce la loro preoccupazione, e assicura loro che i loro genitori stanno bene, anche se lui stesso non ne è sicuro. Al parco, Jacob e Cal condividono i Samosa, e legano riguardo la loro squadra sportiva preferita. Jacob sta ancora soffrendo molto a causa del suo infortunio alla gamba, ma si sente in pace per la prima volta da quando tutto questo è iniziato. Drew e Rose arrivano un'ora dopo, e il gruppo prende strade separate. Il giorno successivo in classe, la lecchina dell'insegnante, Regan, viene nominata sorvegliante, e ha il compito di dire agli agenti qualsiasi attività sospetta che avvenga a scuola. Mostra quindi a Miss Biggs il video di Cal che prende a calci il bidone, ma invece di arrabbiarsi, la signorina Biggs è felice della forza che ha guadagnato. I studenti devono sostenere ancora un altro test fisico, ma questa volta vengono controllati usando gli impianti dentali. La signorina Biggs li fa camminare e girare in un certo modo per controllare la loro coordinazione. Drew segue gli altri, e riesce a nascondere il fatto di non essere controllato. All'improvviso, tutto torna alla normalità, e quelli che sono stati controllati non ricordano nulla. Sulla via del ritorno a casa, i gemelli vengono avvicinati da Rose. Si precipitano rapidamente al nascondiglio per vedere che la ferita di Jacob è peggiorata. Ha la febbre a causa dell'infezione, e sicuramente peggiorerà se non verrà curato immediatamente. Per aiutarlo, Drew e Cal vanno alla clinica della zia Maya. Hanno in programma di distrarla per rubare degli antibiotici, ma lei si accorge del loro strano comportamento. Quando lei li scopre, non hanno altro modo che chiederle aiuto. Le dicono comunque solo del ragazzo ferito, e non dell'Infinity Group. I tre giungono al nascondiglio per essere attaccati da Rose e dagli altri. Pensano che i gemelli li abbiano traditi, ma i ragazzi spiegano loro rapidamente la situazione. Maya è scioccata nel vedere le condizioni in cui vivono i ragazzi. Si prende cura dell'infortunio di Jacob, prima di chiedere loro cosa sta succedendo. Le assicurano che stanno facendo la cosa giusta, ma si rifiutano di dirgli di cosa si tratta. Quando i ragazzi tornano a casa, sono preoccupati per la loro zia. Pensano che la sua vita sia a rischio perché li ha aiutati. Tuttavia, la notano mentre parla con gli agenti dell'Infinity Group e sale nella loro macchina. I ragazzi sospettano che sia una di loro, ma sono sicuri che non metterebbe in pericolo la vita dei suoi nipoti. Nella scena seguente, vediamo alcuni uomini entrare nel nascondiglio in cui Rose e il gruppo sono dentro. I ragazzi imballano rapidamente le loro cose, e si precipitano fuori prima di essere catturati. Drew non riesce a contattarli attraverso il walkie-talkie, e va a vedere se stanno bene. Nel frattempo, Cal va a scuola come al solito. Drew entra di nascosto nel nascondiglio, e vede degli insetti uccisi sul pavimento. Tuttavia, il gruppo non si vede da nessuna parte. Gli operai ed Ili lo individuano e lo cacciano via. Capisce che il gruppo è probabilmente al sicuro, e ha dovuto nascondersi a causa dei lavoratori. A scuola, tre agenti dell'Infinity Group restano in classe per tutta la lezione. Tuttavia, succede qualcosa di più strano quando Tim torna a scuola come se niente fosse. I ragazzi provano a parlargli durante la ricreazione, ma lui respinge la conversazione. Dopo scuola, Drew torna a casa, e vuole che Cal si unisca a lui perché gli agenti potrebbero notare che la posizione dell'impianto e quella sua sono diverse. Cal però decide comunque di rimanere a scuola per gli allenamenti di calcio. Durante il riscaldamento, l'allenatore chiede a Cal di chiamare Tim. Cal corre a casa sua, e lo chiama fuori. Tuttavia, Tim sembra non sapere nulla dell'allenamento. Afferma che i suoi genitori sono in un viaggio d'affari, quindi deve rimanere a casa. Prima che Cal possa chiedergli cosa c'è che non va, un agente lo chiama dall'interno della casa. Si avvicina alla finestra e scruta Cal, chiedendo dove sia suo fratello. Cal va nel panico e finge di chiamare Drew prima di scappare, ma l'interazione crea dei sospetti nell'agente. Cal va a casa e dice a Drew tutto ciò che è accaduto. Vanno di nuovo al nascondiglio per controllare se Rose e il gruppo sono tornati. Per fortuna, trovano il gruppo lì. Si scopre che erano in una stanza nascosta che hanno trovato all'interno del sistema fognario. Vanno nella suddetta stanza, che sembra essere stata usata da qualcuno in passato. Non è l'ambiente di vita ideale, ma è meglio rispetto alla sistemazione precedente. Poco dopo, i gemelli tornano a casa. Cal si ferma improvvisamente e i suoi occhi brillano di blu. È chiaro che è controllato, ma Drew non se ne accorge. Finalmente tornano a casa e si godono la cena con la loro famiglia. Anche Maya è lì, ed è preoccupata per i ragazzi. Nell'ultima scena, rivela di essere stata assunta dall'Infinity Group come medico ufficiale. I gemelli si guardano confusi, incerti se possono ancora fidarsi di lei. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione.